Ciao, guardo qui, dentro proprio, sa, sa, sa di... A partire dall'analisi possiamo un po' filosofeggiare? A partire... si parte così, pazienza, ridere, mi farò divertire, no ti premo, toglieremo... A partire dai punti di forza e punti di debolezza della scuola, che abbiamo analizzato nei primi giorni, abbiamo poi lavorato sulla definizione dell'immaginario che riteniamo debba rappresentare la scuola verso l'esterno. Quindi siamo partiti dalle parole, dai concetti chiave e man mano ci siamo scostati verso qualcosa di sempre più visivo. I risultati raggiunti dal tavolo Ypsilon al 21 di luglio sono stati quelli di aver settato gli ambienti di lavoro, gli ambienti come comunicazione, come condivisione delle informazioni all'interno del tavolo e intratavoli e aver settato lo spazio di lavoro, quindi l'environment, in cui stiamo qua in Spazio Murà, modificandolo strutturalmente e stiamo impostando le piattaforme di condivisione dei contenuti e dei file per il manutenimento e la collaborazione. Zeta è il laboratorio che si occuperà fondamentalmente della didattica e stiamo lavorando per gruppi paralleli, siamo suddivisi in quattro gruppi. Diciamo che Zeta sta aprendo il cassetto dei desideri, cioè ognuno di noi sta immaginando il modello di scuola che avrebbe sempre voluto avere e che prima non è riuscito ad avere.